E allora viene fuori quindi, come abbiamo ascoltato, che quel quad superest è ciò che è sopra, è ciò che sta sul piatto, è ciò che è essenziale, quello che Gesù dice che noi siamo chiamati a dare ai poveri ciò che è indispensabile, ciò che è essenziale. Pensate, un detto così bello di Gesù, trasformato in ciò che avanza e quindi improvvisamente diventa esattamente la negazione di quello che Gesù voleva dire, quello che c'è nel piatto, quello che è essenziale, quello che sta sopra è da dare ai poveri, dai non limosina e tutto sarà puro, Luca 11. E allora, grazie a Don Matteo, adesso diamo la parola a Don Bruno, vi ringrazio dell'intervento e chiedo personalmente scusa del fatto che invece nel frattempo vi dovrò lasciare, lo ascolterò sicuramente registrato. Grazie, un caro saluto a tutti e grazie dell'invito, io farò semplicemente forse un commento quasi a quello che Don Matteo ha già detto perché molte delle cose che dirò vedrete sono su questa linea. Ho preparato alcune slide che anche per favorire un po' l'attenzione, la prima cosa che mi interessava e metto in evidenza è come appunto la Fratelli Tutti solleciti il tema di questa questione della fraternità chiusa e aperta, una sorta di contrapposizione tra due modelli di fraternità. E l'uno, quella aperta che dà spazio al grande tema della gratuità e quella chiusa invece che è negazione sostanzialmente della gratuità. Faccio notare che il tema della gratuità è un tema che dovrebbe essere maggiormente forse approfondito perché coglie uno dei noccioli delle questioni centrali del cristianesimo stesso. C'è stata una riflessione secondo me forse quasi insuperabile sul tema della gratuità da parte di un prete che poi ha vissuto la sua vita anche diversi anni come prete operaio e poi dentro un monastero sostanzialmente come cappellano di monache. Don Luisito Bianchi ha scritto due testi secondo me geniali sul tema della gratuità, uno monologo partigiano sulla gratuità, uno studio sul tema della gratuità che rimane insuperato secondo me, dove fa vedere che nella storia il cristianesimo e il cristianesimo si fondano sul grande tema della gratuità. Cioè tutte le trasformazioni, le grandi trasformazioni e i rapporti che il cristianesimo ha su cui ha modellato i rapporti tra le persone sono fondati sulla gratuità. E l'altro libretto è il dialogo sulla gratuità dove è un dialogo immaginario ma molto interessante appunto sul tema, su questo tema che secondo lui è una delle questioni cardine del cristianesimo. E qui ho ricitato, è già stato ripreso più volte quindi non mi dilungo se non per dire una cosa, il passaggio di Fratelli Tutti 63 quando viene ricordato appunto come ciò che il samaritano fa innanzitutto, prima ancora di condividere quello che ha e di curare, lenire le ferite di questa persona che vive la sofferenza, la prima cosa che fa è quella di fermarsi. E il fermarsi significa uscire da un mondo frettoloso per dare il proprio tempo. Questa cosa è abbastanza, cioè secondo me è molto interessante perché dice esattamente quello che ognuno di noi potrebbe fare, indipendentemente dalla propria condizione sociale e dal fatto che uno può guardarsi in tasca e dire ma io soldi non ne ho, io di risorse non ne ho. Che è un po' la domanda, qui parlo con alcuni che lavorano con Caritas e quindi la domanda è l'interrogativo e la grande questione che a volte pongo quando faccio incontri con quelli della Caritas e che soprattutto a livello parrocchiale o a livello diocesano mi dicono ma le risorse sono limitate, no? Possiamo fare solo qualcosa rispetto alla straordinaria quantità di domanda, di necessità che c'è sul territorio. Ecco, una delle cose che dobbiamo recuperare invece è proprio la dimensione del tempo, cioè se anche tu non avessi nulla da donare a livello di soldi e di risorse, quello che puoi offrire è il tuo tempo, cioè la capacità di condividere in quel momento quella sofferenza. E allora già l'esperienza delle banche del tempo e altre esperienze concrete sono state molto interessanti nel dare risposta alle necessità. però la prima cosa che effettivamente è abbastanza strana e che fa apprezzare molto il cristianesimo è proprio la capacità innanzitutto di fermarsi, di condividere la vita delle persone, di stare in mezzo. Quindi il dare il proprio tempo rappresenta una prima soluzione che tutti noi possiamo attuare perché tutti noi abbiamo a disposizione il tempo, cioè che è l'elemento basilare di cui è fatta la nostra vita. Il giorno in cui non abbiamo più tempo vuol dire che non ci siamo più noi, cioè allora la gestione del tempo è esattamente la grande questione della vita di ciascuno. E dentro questo si gioca la gratuità. Quindi su questo ricordate anche il principio basilare della vita sociale che Papa Francesco pone in Evangelii Gaudium quando dice il tempo è superiore allo spazio. Dove la dinamica del tempo significa appunto andare oltre a quello che è il presente per incrociare la vita dell'altro in una dimensione che è più prolungata. Che non necessariamente significa d'ora in poi mi prendo carico di te in maniera totale, totalizzante. Questa è un'illusione. Non siamo supereroi, non siamo... Però significa mi prendo cura di te per quello che posso e guardando però anche in una prospettiva più ampia. E' quello che fa il samaritano quando mette in campo qualche risorsa per l'albergatore che continua in qualche modo la sua opera. Il filosofo Gabriel Marcel nel secolo scorso poneva una distinzione secondo me interessante e che oggi forse dovremmo riprendere quando distingue tra mistero e problema nella vita umana. Questo mi pare importante per capire anche che cosa è indispensabile, che cosa è superfluo. Lo riferisco al tempo di pandemia con tutta la crisi sanitaria e i grandi problemi che noi stiamo attraversando. Perché Gabriel Marcel nella sua riflessione diceva Un conto è il problema. Il problema mi sta davanti come un ostacolo. Per esempio ho fame. Allora la risposta al problema ho fame è mi dai un panino. La risposta al problema che so io sanitario ho preso una malattia è tecnica ed è la terapia che mi permette di affrontare quella malattia. Benissimo. Questo è il problema. Però Gabriel Marcel dice c'è anche un secondo livello della vita umana che è quello del mistero dove non c'è semplicemente una risposta tecnica, non è più sufficiente. Lì ci vuole qualcosa di più. Bisogna entrare dentro al mistero della vita perché solo una risposta di prossimità può essere sensata davanti alla domanda del mistero. Faccio un esempio. Se io mi trovo nell'esperienza della malattia sicuramente la prima cosa che devo fare è andare dal medico e dire qual è la terapia, come uscire da questa malattia. Questo lo dobbiamo fare. Però tutti noi sappiamo che davanti alla malattia la persona si chiede ma perché proprio a me? Perché in questo momento della mia vita? Capite? Questo è il mistero. Cioè la domanda di senso pone dentro alla logica del... Allora lì sta la risposta, la gratuità. La gratuità interviene a questo livello. Ed è necessario, è fondamentale perché? Perché alla domanda perché proprio a me questa malattia nessuno di noi, nessuno che mi forse può offrire una risposta. Però la condivisione, la capacità di offrire il tempo, la prossimità diventa abitare il mistero insieme. E che cambia tutto, che è quello poi che in tempo di pandemia ci siamo resi conto. Qualche domanda dovremmo farcela su tanti morti nella solitudine dei nostri ospedali, no? Cioè è sufficiente dire noi ti isolo da tutto e provo a salvarti. dove manca quella capacità che è simbolica umana e del mistero dell'uomo di prenderti per mano nel momento della morte, di sentire una presenza amica, vicina, fraterna nel momento della morte. Queste sono domande radicali, capite? Allora la gratuità, cioè l'indispensabile, lavora al livello del mistero, non al livello del problema. Spero di non aver complicato troppo questa citazione di Gabriel Marcel, ma mi sembra importante perché permette anche di capire la nostra umanità ai livelli diversi dall'antropologia che noi viviamo. Allora da qui la logica della condivisione come risposta autentica ai problemi, cioè noi siamo fatti per la comunione. Questo ci dice l'esperienza anche del samaritano in quel commento che Papa Francesco fa nel secondo capitolo di Fratelli Tutti. Cioè i beni sono al servizio delle relazioni. Su questo è un approfondimento già di quello che ci diceva Don Matteo prima, cioè qual è il senso dei beni nella tradizione cristiana? Stanno, i beni stanno al servizio, non sono il fine, sono un mezzo, sono uno strumento al servizio delle relazioni, al servizio della comunione e per cui il superfluo, qui nasce l'interrogativo a chi appartiene il superfluo. Ricordate il gesto della vedova del Vangelo che secondo me insegna molto bene, cioè la vedova mette dentro tutto se stesso, quel gesto dice esattamente quella differenza tra l'indispensabile e il superfluo. Lei mette tutto ciò che aveva ma è tutta la propria vita, possiamo interpretare in quel gesto. E allora mettere sul piatto la propria vita significa vivere la propria esperienza nella ricchezza della comunione, delle relazioni. Siamo fatti per questo, non è un caso che nel momento in cui i beni vengono chiusi dentro la prospettiva individualistica, lo proprio tornaconto personale, a quel punto cosa succede? Succede che c'è un impoverimento radicale dell'uomo, non solo delle relazioni ma anche della mia umanità. Quindi i beni sono la cartina di tornasole, la gestione dei beni sono la cartina di tornasole di come noi possiamo davvero arricchire la nostra umanità, completarla, viverla nella sua pienezza oppure impoverirla. Da qui una seconda prospettiva, cioè la dinamica, l'insegnamento sempre che Fratelli Tutti ci fa del guardare a un Vangelo in uscita grazie alla prospettiva del lavoro. Anche su questo Don Matteo mi ha fatto un assist terrificante, io lo prendo al volo. e faccio notare che in Fratelli Tutti 54, Papa Francesco, siamo proprio alla conclusione del capitolo primo, quel numero secondo me è un numero molto interessante perché lui riprende, tra l'altro riprende un discorso che ha già fatto in precedenza e qui lo ricita, però riprende un'immagine che è questa. Cioè noi abbiamo davanti a noi delle persone che di fatto attraverso il loro lavoro o attraverso il volontariato, attraverso il loro servizio, di fatto ci hanno detto che la nostra vita in tempo di pandemia è fatta per essere condivisa. Cioè nella misura in cui queste persone hanno intrecciato la loro vita con quella degli altri, questi sono diventati Vangelo vivente e ci hanno spiegato che nessuno si salva da solo. Quindi questo annuncio che quindi è molto interessante, vedete, perché allora Papa Francesco ci dice non andate a vedere dove c'è l'annuncio esatto, no? Ma andate a vedere dove c'è gente che già concretamente si sta spendendo attraverso il lavoro quotidiano. E qui adesso non vi leggo l'elenco ma lo potete vedere voi o andate a vedere al numero 54, sono categorie di persone concrete che lavorano e nel loro lavoro dicono esattamente una dimensione oltre il lavoro che è data dalla passione, dalla dedizione e dal fatto che la loro vita viene messa a disposizione. Non è un caso che molti medici, infermieri, personale sanitario abbiano perso la vita dentro l'esperienza della pandemia. E questo dichiara una fraternità che è stata vissuta concretamente. Su questo tema mi è venuto in mente un bellissimo racconto dei fratelli Karamazov di Dostoievski, racconto famosissimo, forse che tutti conoscete però molto simpatico, di questa donnetta che cattiva muore e che l'angelo custode deve andare a trovare una buona azione che ha fatto, no? E allora a un certo punto dice però, dice a Dio il suo angelo custode, guarda questa donna è vero è stata cattiva, però un'azione l'ha fatta, ha sradicato una cipollina dell'orto e l'ha data a un mendicante. E allora Dio gli dice bene, guarda, in nome di questa unica azione positiva che ha fatto, fa in modo che quell'azione, quel gesto sia il gesto di salvezza definitiva nella sua vita. E allora cosa fa? Gli dà l'ultima possibilità, l'ultima chance, da qui dall'inferno, quindi lei ha la possibilità, prendila con la cipollina e porgigli attraverso quella cipollina e portala in salvo. E succede appunto che gli viene offerta quella cipollina, lei si attacca, ma si accorge che dietro di lei arrivano anche gli altri che vogliono attaccarsi. A quel punto lei scalpita e si libera di tutti gli altri, ma è proprio in quel momento che la cipollina si spezza. Questo racconto geniale, secondo me molto interessante, ci ricorda come appunto la salvezza avviene dentro una catena, mai una salvezza individuale. Questo è il gesto grande di gratuità. Cioè che il gesto di salvezza per una persona lo è nella misura in cui si collega la salvezza degli altri. e quindi questo racconto, che poi con calma potete meditare, è sicuramente un testo che fa riflettere dalla letteratura. Perché? Perché ci permette di capire queste dinamiche relazionali molto profonde. Terzo passaggio. La crisi della pandemia ci obbliga e ci suggerisce anzi che dobbiamo essere persone che oggi sanno seminare speranze. Questa è la gratuità vissuta nel nostro tempo. Cioè come noi oggi possiamo dire la gratuità attraverso la speranza. Nelle relazioni, pensate a tutta la tragedia del lavoro oggi, la tragedia delle crisi, delle varie crisi, da quella sanitaria a quella sociale a quella lavorativa, a quella economica, le varie crisi del nostro tempo hanno bisogno di persone che sanno abitare con speranza a questo tempo. Il numero 33 della Fratelli Tutti ce lo ricorda. Il dolore, l'incertezza, il timore, la consapevolezza e i propri limiti che la pandemia ha suscitato fanno risuonare l'appello a ripensare i nostri fili di vita, le nostre relazioni, l'organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza. Ecco, nella misura in cui riusciremo a seminare questa novità, cioè ripensare qualcosa della nostra vita, anche delle comunità cristiane, io reputo che questa sia veramente la sfida. Oggi abbiamo l'impressione che le comunità cristiane siano una sorta di pugile suonato. Vale per le diocesi, per le parrocchie, la fatica quasi di attesa di tempi migliori. Guardi, questa è la tragedia della Chiesa di oggi. Se noi aspettiamo tempi migliori ma non abitiamo il tempo della crisi come opportunità per seminare qualcosa, questo diventa tragico e significa che non siamo più capaci di speranza dentro all'umanità di questo tempo. Quindi questa è la sfida che noi siamo chiamati ad abitare in un tempo di paura del futuro, come ci suggerisce queste immagini, dove l'orizzonte oggi è un orizzonte che sembra per tanti versi oscuro. Tanta incertezza c'è nella vita della gente. E appunto perché c'è incertezza occorre la capacità di abitare questo tempo con coraggio. Ed è bello quello che Papa Francesco suggerisce sempre, fratelli e tutti, sul tema della tenerezza, di quell'amore che si fa vicino e concreto. Ecco, una delle cose che oggi la comunità cristiana deve essere capace di fare è quella di condividere, di stare in mezzo alla vita della gente. Forse noi stiamo ancora teorizzando troppo modalità di pastorale e facciamo fatica a intercettare i vissuti, i vissuti ordinari, i luoghi dove la gente passa il tempo, cioè pensate alla scuola, all'impegno nell'economia, nella politica, ma al lavoro soprattutto. E dove è bellissimo questo passaggio dove ci dice Papa Francesco i più poveri debbono intenerirci, hanno diritto di prenderci l'anima e il cuore. Espressione molto forte questa, no? I poveri hanno diritto di prenderci l'anima e il cuore. Dove la gratuità, cioè non è il dare appunto il superfluo, ma è il diritto del povero di ricevere l'attenzione sufficiente e necessaria perché la sua vita sia riconosciuta nella sua piena dignità. Capite perché la tenerezza è la risposta, perché la tenerezza diventa la capacità di riconoscere l'unicità di quell'esistenza, di quella vita. Il grande tema è il lavoro, quarto passaggio. Numero 162 di Fratelli Tutti. Noi oggi avvertiamo, ce l'ha detto prima anche Don Matteo, che il tema del lavoro è un tema cardine, perché se non affrontiamo seriamente la grande questione del lavoro rischiamo di impantanarci, di impantanarci rispetto a forme assistenziali, di impantanarci rispetto al non riconoscimento della dignità, soprattutto perché il lavoro davvero forma la dignità della persona. dice il rapporto anche col mondo di una persona. Tutte le forme di assistenza devono essere temporanee rispetto, devono essere provvisorie, rimedio provvisorio, lo dice anche Fratelli Tutti questo. Quindi la grande questione è dove il tema anche di un'economia nella quale siamo, ce lo ricorda la Fratelli Tutti, il mercato da solo non risolve tutto. Cioè non possiamo affidarci semplicemente alle logiche, alla speculazione finanziaria che continua a fare strage, le logiche del mercato, quasi che ci sia una sorta di soluzione attraverso quello che sapete nella tradizione classica era la mano invisibile, di una soluzione magica. Noi mettiamo in piedi il mercato, poi le cose si sistemeranno. E ancora oggi c'è molta illusione da questo punto di vista. In realtà lo sappiamo e viene in mente quell'immagine, la tentazione dell'egoismo umano è quella non dello sgocciolamento, di quel bicchiere che sgocciola e che quindi qualcosa arriva a tutti. Se c'è ricchezza qualcosa poi arriva a tutti. Ma in realtà quello che succede è che quel bicchiere viene sempre più ingigantito perché si costruiscono muri o viene ingrandito per evitare che ci sia una perdita. E ovviamente quindi i poveri sono sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi. Quello che lo vediamo anche dai dati più recenti. Anche in tempo di pandemia l'esito finale che è drammatico per tanti versi è che abbiamo gente sempre più ricca e abbiamo una platea di poveri sempre più grande. Quindi cinque pilastri, chiudo. Il primo pilastro è il sogno. Se vogliamo parlare di gratuità dobbiamo ripartire da un'esperienza gratuita che è quella di sognare insieme. Fratelli tutti otto. Com'è importante sognare insieme? Da soli si riesca di avere dei miraggi per cui vedi solo quello che non c'è invece i sogni si costruiscono insieme. Allora bisogna imparare a costruire sogni condivisi. Questo è un primo elemento perché la gratuità sia esperienza concreta e provare a sognare insieme qualcosa di diverso. Anche un'economia diversa. Io penso che la provocazione di Economio Francesco non debba restare tra quei giovani ma deve essere una cosa di contagio reciproco per cui sul termine contagio in questi tempi non è bello però di ospitalità reciproca è di una crisi che è quella di un modello di sviluppo che non ha dato le risposte che bisognava dare e quindi di un ripensamento radicale di alcune prospettive. solo dentro un sognare assieme è possibile appunto quella gratuità. Secondo, l'artigianato come stile. In Fratelli Tutti c'è la citazione dell'artigianato legato al grande tema della pace. Questo lo sappiamo tutti però c'è bisogno di un artigianato secondo me allargato non solo sul tema della pace ma anche di questa gratuità cioè che ciascuno di noi può fare qualcosa e dice il numero 231 di Fratelli Tutti le grandi trasformazioni non si costruiscono alla scrivania o nello studio. Quindi da qui deve partire è un artigianato della gratuità possiamo dire cioè una gratuità che si costruisce dentro alle relazioni più quotidiane e qui mi sovviene quel bellissimo passaggio del 43 di Fratelli Tutti c'è bisogno di gesti fisici di espressioni del volto di silenzi di linguaggio corporeo persino di profumo tremito delle mani rossori sudore perché tutto ciò parla e fa parte della comunicazione umana. Mi è capitato la settimana scorsa nella mia diocesi di fare due turni di volontariato con i volontari del lab delle vaccinazioni e vi dico che voi vedete questi anziani ultraottantenni che arrivano con un sacco di paure e che sopra la mascherina leggete negli occhi tutta la domanda di speranza e di fiducia cioè incrociare gli occhi oggi della gente è qualcosa di straordinario di fondamentale c'è bisogno di tornare a incrociare questo qui l'artigianato della gratuità è qualcosa di molto concreto e molto pratico terzo la gratuità ha bisogno di mostrare che ci sono luoghi dove nessuno guarda e bisogna partire da lì le periferie fratelli tutti 215 da tutti si può imparare qualcosa nessuno è inutile nessuno è superfluo ed è qui il tema del superfluo è esattamente che non esiste dentro alle dinamiche umane perché nessuno può essere scattato quindi includere le periferie anzi le periferie potrebbero esattamente diventare dei luoghi dei laboratori di socialità diversa questo è quello che Papa Francesco ha detto a più riprese noi abbiamo sempre la tentazione di partire dal centro invece è a partire dalle periferie dei laboratori che nasce qualcosa quindi le periferie come luoghi significativi luoghi simbolici da ultimo il tema politico perché accanto al lavoro anche la politica è un'altra grande questione del nostro tempo Fratelli Tutti 186 lui e Papa Francesco attraverso questa immagine tra l'aiutare un anziano a attraversare un ponte un fiume scusate e il politico che costruisce il ponte ecco sono due livelli di carità entrambi necessari dobbiamo stare attenti a non abitare solo il primo cioè quello ti aiuto ad attraversare il fiumo ma è necessario anche il livello politico come esperienza profonda alta di carità e quindi la gratuità è dentro anche la politica forse questa è una delle oggi la cattiva fama della politica non aiuta anche un'esperienza di gratuità autentica sapete perché dobbiamo far recuperare assolutamente alla politica una una dignità alta una dignità alta perché perché dentro la politica c'è esattamente quella capacità di non guardare all'interesse singolo ma il bene comune significa qualcosa che è sopra tu sopra tutti e soprattutto quindi lì c'è dentro una dinamica di gratuità perché non guardo più al singolo ma guardo al tutto che è superiore alla parte direbbe sempre Evangeli Gaudi ecco questo tutto questo ci dice chiudo con questa slide che la fraternità biblica è è un punto di arrivo non un punto di partenza cioè anche la gratuità è qualcosa che dobbiamo saper costruire passo dopo passo non la troviamo già così disseminata nella nostra vita perché sappiamo che la tentazione è quella invece di chiuderci in noi stessi ed è interessante l'episodio di Giuseppe Genesi 37 50 perché ci aiuta a capire come Giuseppe in una situazione critica difficilissima per lui viene venduto viene svenduto sostanzialmente finisce in un paese straniero con quindi in una crisi che potrebbe essere drammatica e da cui non rialzarsi più invece ritesse di nuovo la fraternità e questo mi sembra un elemento importante per capire anche un altro aspetto della gratuità cioè che la fraternità va ritessuta continuamente di nuovo non va data per scontata grazie